Il video di Pasquale della Pisana Calciotto che oggi ha perso nei quarti di finale di Coppa Promozioni Serie 2 vorremmo chiederti mister una sconfitta che si vi tira fuori dalla Coppa Promozioni ma che non rovina con un cammino che quest'anno è stato per voi trionfale forse un avvertimento per il livello di un'altra neopromossa che come voi affronterà il prossimo campionato o quali sono le tue impressioni a margine della gara? Intanto comincio a fare complimenti al CJ perché sappiamo che era una squadra di ottimo livello Noi non dico rimaneggiati ma all'ultimo momento si è fatto male il portiere abbiamo preso il secondo che è da calcetto e comunque è tutta un'altra storia venendo una porta così grande ma al di là di questo non voglio levare i meriti al CJ comunque ha fatto un'ottima partita impostata molto sulla grinta non rimane solo che fare i complimenti a loro non voglio dare dei meriti alla mia squadra perché comunque sì non abbiamo fatto un'ottima partita ma non siamo riusciti a imporre il nostro gioco sempre perché comunque il CJ ci ha tenuto nella nostra metà campo prestati non siamo riusciti a impostare la nostra gara e vi abbiamo visto tentare rispetto al solito tanti tiri da fuori quando avevate una squadra nel girone del Cireci che si tirava tanto da fuori ma quando c'erano le partite che non si riuscivano a sbloccare con l'arma nella quale per esempio Cesaro è piccolo sono fortissimi appunto il tiro dalla distanza riuscivate ad entrare dentro oggi non era facile c'era una difesa forte come quella del CJ un attaccante di peso può essere la soluzione anche per cambiare un po' per il prossimo anno? beh guarda abbiamo un attaccante che ha vinto sia il gioco del Cireci che tutti e cinque giorni quindi penso che come attaccante anche se oggi l'ho visto un po' giù di tono ma non penso che ci sia un cambiamento lì davanti penso che il cambiamento sia più dietro qualche eliminatura ma niente di che per il resto certo non è che andiamo a giocarci lo scudetto però penso che con la squadra che abbiamo con piccoli tocchi possiamo insomma stare lì tra le prime sei grazie e complimenti a mister Davide Di Pasquale a voi buon lavoro